allora sempre per la ricerca delle massime prestazioni vediamo i windows 10 windows 11 come disabilitare il vbs il core isolation che non si sa che cos'è non si sa come funziona dovrebbe soltanto in teore come dico loro aumentare la sicurezza di windows ma purtroppo durante gli applicativi sia desktop che videogiochi in molti c'è una discreta perdita di prestazioni soprattutto avremo sempre quel frame rate molto ballerini come farlo davvero semplice lente di ingrandimento digitiamo sicurezza di windows lo vedete qui clicchiamo sicurezza sicurezza dispositivi isolamento core dettagli isolamento core io l'ho disattivato se non c'è attivato ovviamente non lo rimette riattivarlo l'attivazione dell'isolamento core porta a una perdita di prestazioni la disattivazione porta a un aumento di prestazioni un'altra cosa la modalità gioco in teoria dovrebbe disattivare quando attivata dicono che dovrebbe disattivare gli aggiornamenti windows e altri servizi ma purtroppo viaggia a sua volta io preferisco fare la cosa più semplice mentre uno fa i videogiochi se non ha bisogno della rete ve lo vedete qua sotto ho messo in modalità aereo si guadagna non poco e poi volendo stando in modalità aereo si può anche fare questo vediamo se viene disattivare l'antivirus qualunque esso sia che un pochettino di cpu di prestazioni cpu se le porta via in questo modo possiamo tirare via il massimo dal nostro sistema senza doverlo aggiornare con grande beneficio soprattutto della stabilità degli fps quindi walk and set low e probabilmente i caricamenti e tante altre cose ricordatevi come al solito sempre disettare l'affinità che purtroppo nonostante dovrebbe essere automatico e dovrebbero farlo i giochi ancora funziona questa pratica per il momento ci fermiamo qui se vi è piaciuto questo video lasciate un like commentate iscrivete lasciate ovviamente consigli e suggerimenti e ci vediamo ai prossimi video e i prossimi che pubblicherò anche in anteprima li lascerò per gli abbonati diversi giorni prima insomma anche loro hanno da godere dei benefici e voglio ancora ringraziare carlo zardetto che è stato il primo abbonato e che ovviamente si sta godendo questi primi video in anteprima soprattutto quelli della serie amica al prossimo